cuore e allora e non sto aspettando che mi mandi il messaggio vabbè non ti preoccupare cuore mio probabilmente ti sarai pure addormentato capito stai tranquillo quando è possibile mi fai sapere io so che stiamo facendo questa terapia e quindi so quello che comporta e quindi non ti devi assolutamente preoccupare se non se non me lo mandi subito quando finisce stai tranquillo senti niente vabbè a parte gli squilli che abbiamo ricevuto tanto la ricevuti stanotte io li ho ricevuti stamattina stamattina è arrivata pure la chiamata di ciccio è rientrato ieri sera è rientrato e niente ha detto che cammina con le stampelle però gli hanno assicurato al cento per cento che con la terapia che deve fare con le sedute ovviamente di col fisioterapista riprenderà il cento per cento tutto capito quindi stai tranquillo tutto a posto lui sta sereno ovviamente sapeva già di quello che stavi facendo probabilmente riesce a sentirsi con con il don questo abbiamo capito insomma perché alla fine già sapeva che tu stavi facendo ciò quindi di conseguenza l'unico che sa è il don e quindi probabilmente ci ha parlato probabilmente ha detto che lo andrà a trovare in questi giorni ho detto non appena trovo qualcuno che mi accompagni vabbè capirà figurati se non c'è nessuno vabbè è cuore mio che deve dire è normale che deve parlare così senti e poi niente questo è quanto tu fammi sapere ovviamente come è andata oggi non ti preoccupare dimmi quello come è andata e come ti senti ti prometto che non mi agito e ti prometto che sto tranquillo va bene tanto so come devono andare queste cose alla fine ho imparato a memoria con per tutte le vicissitudine vicissitudini che che abbiamo passato figurati so a memoria quello che succede ovviamente per tutto quello che te mi hai detto va bene quindi stai tranquillo non mi dilungo più di tanto perché non voglio che ti stanchi e niente cuore mio e ci sentiamo stasera va bene stasera facciamo un salto stai tranquillo tu non appena ti viene sonno me lo dici perché non non ti deve assolutamente stancare non ti puoi stancare devi essere sereno e rilassato va bene comunque veniamo anche poco 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 va benissimo beh cuore mio cerca di sforzarti se è possibile di mangiucchiare qualcosa e di un po' tu ok tu sai come ti senti e quello che che vuoi fare va bene beh a dopo eh un bacio un cuore e un abbraccio io ovviamente sto andando a prendere Giuseppe ciao cuore mio a dopo ciao